Festa dei vincitori 2015, innanzitutto Berto Lupinetti, presidente regionale della FIS e complimenti per l'iniziativa. Grazie, è oramai una tradizione, da anni c'è la festa dei vincitori e naturalmente premiamo tutti i cavalieri che hanno vinto solo medaglie d'oro nel 2014, in questo caso, che vengono festeggiati poi l'anno dopo perché i premi e le gare vanno dall'inizio d'anno fino alla fine e per metterli assieme tutti li facciamo l'anno dopo. Tra l'altro ho notato che ci sono anche molti personaggi dell'ambiente, molti genitori anche che accompagnano i propri figli, è molto bella questa iniziativa anche per i giovani cavalieri che iniziano a conoscere questo sport. Ma senz'altro, è una serata di festa, di aggregazione, è un momento di incontro, i ragazzi che fanno le diverse discipline vedono sul palco anche dei cavalieri che magari non incontrano mai, per cui credo che sia una cosa che abbia un certo valore e sia uno stimolo. Quindi per le discussioni e per le sedute da domani? Da domani, senza altro, adesso guardiamo quanti cavallini, per cui questo è il risultato dello sport lombardo. Benissimo, complimenti, grazie. A voi, grazie.